Meno 4 Come dire, meglio difendersi, Sainato schierato a centrocampo ma buona parte della sua gara consumata a fare il quinto di difesa. Di contro una signora squadra dove tutti i giovani fanno davvero la differenza e non solo. Vanacore ha dominato in lungo e in largo per tutte le zone del campo. Perfino in porta quando si è sostituito all'estremo difensore Alfieri, quest'ultimo classe 92. La cronaca della partita, primo tempo quasi interamente regalato agli ospiti, il Roccella conclude soltanto due volte in porta. Nella ripresa in campo Jacopetta va a sostituire un panaglia inesistente ma la musica cambia davvero poco. Si rivedono gli spettri dello scorso anno, soliti lanci a scavalcare il centrocampo. L'episodio buono capita anche a Roccella ma il colpo di testa è respinto sulla linea. Rovesciamento di fronte decisivo, punizione di guarda un po', sempre lui. Vanacore e piattone di fiore, gol. Poi entrano Trimboli per Sainato e fuori anche Saffioti per Di Maggio. Tenuto in panca per precauzione, veniva da un infortunio. Due buone occasioni, prima gol annullato per fuorigioco a Roccella ed infine Di Maggio sbaglia il pareggio. Tutto qui, fine gara dove il Roccella annuncia il silenzio stampa. I tifosi contestano l'allenatore che lascia intanto lo spogliatoio a Capochino. Addirittura si odano i caroselli festanti dei tifosi del Roccella, giudicato probabilmente troppo dalla società e si parla di dimissioni più o meno collettive. E a pensare che se fosse entrato quel colpo di testa e di conseguenza gol, oggi saremo qui probabilmente a festeggiare l'aggancio. Una domanda vorrei farla allo studio di tutti in campo, ma è legittimo o no contestare un meno quattro rispetto allo scorso anno, così come è legittimo festeggiare un aggancio seppur con il cattivo gioco? Abbiamo provato a contattare Giannitti che ci ha ribadito il silenzio stampa. Avevamo di fronte una signora squadra, a della classifica che purtroppo in alcuni periodi è migliore, in alcuni periodi è peggiore, ma di fronte avevamo una squadra veramente buona. È normale che una partita a viso aperto come quella di oggi poteva andare a favore nostro, a favore loro, poteva finire in pareggio. L'abbiamo spuntata noi perché siamo stati un pochino più cattivi in fase conclusiva, però alla fine un grande applauso anche a loro perché si vedono poche partite, penso, con tutte queste cose di da gol da entrambe le parti. Penso che la gente sugli spalti si sia divertita. Senta, è un lungo decisivo per i play-off? Beh, ancora il campionato è lungo, al di là di tutto noi continuiamo a lavorare, non eravamo depressi quando magari all'inizio siamo partiti male e non siamo oggi esaltati, sarebbe sbagliato. Si continua a lavorare, non abbiamo un obiettivo preciso, al fine del campionato poi tireremo una linea e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare. Dopo la sconfitta abbiamo visto anche Figlio Meni andare via, abbiamo chiesto intervista, non ce l'ha rilasciata, così come la presidenza si dichiarano in silenzio stampa. Di conseguenza teniamoci solo le dichiarazioni della squadra cosentina della rossarese che ha vinto meritatamente qui all'inetto muscolo. È tutto, a vola linea. Grazie a tutti.